Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Sono qui oggi per farvi un annuncio E diciamo Vi avviso Un avviso che comunque sia E farò entro questa settimana al massimo Settimana prossima Questo avviso riguarda principalmente I miei 600 iscritti ragazzi Cosa farò per i miei 600 iscritti? Allora ragazzi Siccome la volta per i 400 ovviamente Saltando il video dei 500 Perché il mio ospite ha avuto dei problemi tecnici Stavolta come i 400 iscritti Farò una partita insieme a voi Questa partita la vorrei fare su un gioco a vostra scelta Ovviamente cercando di includere Tutti i possibili iscritti che ho nel mio canale ragazzi Perché la vedo difficile Altrimenti fare un video dove possiamo giocare in 600 Quindi ragazzi la mia idea La mia idea sarebbe di giocare a Black Ops 2 Poi ovviamente fatemi sapere se avete qualche altro gioco Che magari si può giocare in più gente In più... si può fare una partita più grande Più... dove possono essere coinvolti più persone Io oltre a Call of Duty Ho Battlefield Minchiate varie non le conosco Principalmente sono gli sparatuti ragazzi Quelli che è possibile... In cui è possibile giocare In molte, molte, molte persone Non so su Battlefield Magari su Battlefield È possibile fare una cosa del genere Su Call of Duty la stessa etica cosa È possibile fare una cosa del genere Difficile è giocare insieme Su Forza Horizon Su FIFA Perché lì diventa veramente brutto Visto che comunque sia Le persone possono partecipare Veramente in poche Assassin's Creed non ne parliamo Non torniamo troppo indietro Con vecchi Call of Duty O vecchi... O il Battlefield vecchio O il Medal of Honor V Non torniamo con Sniper E boh ragazzi Io direi A vostra... Cioè vabbè Poi ditemi voi se avete qualche altro titolo Da proporvi Io consiglierei O Call of Duty Black Ops 2 Che è il gioco che Principalmente avete tutti voi O Battlefield 3 Che anche quel gioco Vedo che comunque sia Quando mi collego online Ce l'avete in molti O altrimenti ragazzi C'è anche Crysis Non lo so se Crysis 3 Ce l'avete tutti Ma penso che non ce l'abbiate tutti Perché non è un titolo Che comunque sia Abbia riscosso Chissà quanto è successo Sicuramente avrà avuto Il suo successo Nel... Nel... In ambito mondiale Però magari In ambito nazionale Nel nostro Italiano Non ha avuto questo successo Che è così Così aspettato Eccetera Quindi ragazzi Ditemi voi Fatemi sapere voi Se Call of Duty Fate Quello che cazzo volete Proponetemi i giochi giù Nei vostri... Nei commenti Che ne so ragazzi Fatemi sapere anche Magari una data E c'è una data No Un orario Qui potremmo fare il video Perché io direi Di farlo tipo Un pomeriggio Perché un pomeriggio Potete essere il libro Di mattina Difficile Perché devo andare all'università Per me è un casino Organizzarmi con gli orari Quindi ragazzi Io vi ho detto tutto Prepariamoci per il video Dei 600 iscritti E che dire ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao raga Grazie mille